Grazie a tutti Solo una visione quando un'unica al mattino Tutte le mani che si alzano verso il cielo Questo è un signor DJ che non si vede tutti i giorni in Italia E lo signor DJ che lo staff in sound e perché mi si è sottoscritto Sono orgogliosi di presentarvi questa notte Per la prima volta con noi Mr. Koo Per la prima volta con noi 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 Grazie.